Mercato in fermento, il Casavellino nelle ultime ore, il DS De Vito sta accelerando per sistemare il pacchetto offensivo sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore si era trovato l'accordo con l'Olbia per King Udo, attaccante classe 97 che avrebbe sposato il bianco-verde per colmare la lacuna che lascerebbe Gabriele Bernardotto in termini numerici. 37 presenze, 13 gol e 3 assist nella passata stagione. Udo è un attaccante dal fisico possente, dalla buona tecnica, tutto fatto col club sardo e con la gente dell'attaccante italo-nigeriano. Ma nel mercato le insidie sono dietro l'angolo originario di Reggio Emilia. Udo preferirebbe avvicinarsi a casa, dove vive la sua famiglia, e sposare un altro progetto. Su di lui c'è forte l'interesse del Cesena. Capitolo rinnovi, l'Avellino ha incassato il nodimo a Madu Canutè del suo agente alla proposta, con ritocco dell'ingaggio verso l'alto. L'esterno classe 93 vorrebbe più anni e più soldi per mettere la firma sul contratto, che al momento appare dunque lontana. De Vito, a tal proposito, si starebbe già tutelando il dirigente Erpino Assondato. Il terreno per Andrea Sillipo, esterno mancino del Palermo 2001, protagonista con 28 presenze, 2 gol e 2 assist della promozione rosa-nero. Trattativa fattibile, ore caldissime per l'attacco dell'Avellino. Grazie a tutti. Grazie.